Il denaro può comprare Non molti Certe cose non sono in vendita Per esempio? Non si può comprare la gente È solo una frase fatta Supponiamo che io le offra un milione di dollari Per una notte con sua moglie Io credo che tu voglia che io lo faccia Ma tu vuoi farlo? No Vorrei farlo per te Pensa a che cosa sarebbe per noi una somma simile A come cambierebbe il nostro futuro È solo il mio corpo Non la mia mente Non il mio cuore Se fosse mia Io non la dividerei con nessuno Non è amore, è solo sesso Una notte passa e se ne va Ma il denaro può durare tutta la vita Ci pensi Mi faccia sapere Una sola notte